L'importante è curare quello che abbiamo, valorizzarlo, è il motivo per cui noi con i fondi del PNRR in realtà pianteremo 500.000 alberi e l'importante è dialogare con le scuole per far capire l'importanza dell'ambiente che ci circonda. Non a caso questa festa nasce proprio dal Ministero della Pubblica Istruzione insieme al Ministero dell'Ambiente e quindi ricordarla attraverso iniziative nelle scuole è fondamentale. Noi oggi qui abbiamo la fortuna di avere anche gli istituti agrari con i quali collaboriamo perché Roma è una città verde e agricola e questa è la nostra speranza.